Il colore di oggi è... Green! Verde! E' un atto, non vedo! Che fa' è? Cercate tutti qualcosa di verde! Green! Hmm... Qualcosa di verde! Che cosa può essere? Non vedo! E' il resto! Bene! Vediamo le vostre foto! A green pencil! A green balloon! A green block! Bravi! Continuate a cercare cose verdi! A green apple! Perfect! A green chair! Excellent! E questo? Sapete che cos'è? Grazie!